Andate con chi sto! Mimmo Dari! Alla grande qui su Radio Studieme! Mimmo spiegami sto fattore pariatore! Dobbiamo spiegare il pariatore! Allora che è successo? Tu che hai fatto in la vita? Io ho fatto il pittore, ho fatto il sardatore, ho fatto il muratore, mi chiamo Salvatore Se il povere è arrivando qua, si è rotto l'alternatore Poi devo fare una controllatina pure a radia Tore E poi adesso io ho fatto la canzone del pariatore Io sono un canta-u Tutto con tu, non stiamo così Quindi ascoltateci qui su Radio Studieme Mimmo Dari Una Chiappate insieme! Chiappate! Ciao ragazzi!